Grazie Presidente, quest'ordine del giorno rilancia un progetto molto interessante che abbiamo esaminato tra l'altro in Commissione Mobilità nei mesi scorsi, è il progetto così definito del parco lineare di Roma Est, in realtà si sostanzia in un itinerario ciclabile che parte da Porta Maggiore e arriva fino a Gabbi nel solco della ferrovia regionale FL2. Si chiama parco lineare, i cittadini che l'hanno proposto, l'hanno portato avanti, i comitati che l'hanno sviluppato, si chiama parco perché in realtà non è una mera pista ciclabile, non è un mero itinerario ciclabile, ma è un'occasione di riqualificazione di tante aree verdi che vengono attraversate, tra cui anche alcune oggetto della Convenzione che ci apprestiamo a votare oggi. Ebbene sottraere questo progetto ha già un studio di fattibilità, un ex progetto preliminare con la vecchia denominazione del precedente codice degli appalti e già io feci anche degli emendamenti al DUP, al documento unico di programmazione per sviluppare questa progettazione e portare avanti questo intervento. Ripeto, è strategico perché consentirebbe a tutti i cittadini del quadrante est di raggiungere il centro della città in maniera sicura, in bicicletta e in maniera protetta, un pochino sul modello anche di una pista del genere molto apprezzata di Montecciocci per capirci. Quindi un itinerario ciclabile che segue la rispettiva ferrovia regionale, quindi anche con un ottimo potenziale di scambio intermodale per magari lasciare la bicicletta a metà strada e proseguire con il treno e poi, ultimo ma non ultimo, questo progetto avrebbe un'importante equivalenza turistica e culturale perché consentirebbe in primis ai romani di scoprire dei siti archeologici importanti come quello di Gabbi e poi anche ovviamente per gli altri turisti stranieri o di altre città italiane. Quindi ecco, in questo ordine del giorno cerchiamo di mantenere viva l'attenzione su questo ambizioso progetto. Grazie.